Prima gara di semifinale play-off per le ragazze del Volley Arno domani alle 18 in casa dell'impruneta Pallavolo. Dopo il duplice successo su Empoli per le Rosso-Blu torna un confronto decisamente più noto, visto che le avversarie di questo turno hanno fatto parte del medesimo raggruppamento, il girone B di Serie C regionale, giungendo quarte al termine della regular season ed hanno sconfitto nei quarti il gruppo sportivo San Giuliano. In campionato, peraltro, il Volley Arno ha vinto entrambi i confronti diretti per 3-1, imponendo la propria superiorità, peraltro in un periodo nel quale c'erano anche forti speranze di vittoria globale del campionato per le Aquilotte. Nessuna assenza del roster a disposizione di coach Lapi, il regolamento resta invariato. Nel ritorno a Montevarchi, in caso di una vittoria a testa, si procederà al Golden Set, indipendentemente dal numero dei parziali vinti, per decidere la finalista, anche se l'obiettivo per il Volley Arno resta quello di bissare il doppio successo con Empoli.